Christian von Begson e Peter Madsen sono due appassionati di spazio che sono riusciti a costruire un razzo alto 9 metri che il prossimo 30 agosto dovrebbe essere lanciato dalla Danimarca per un volo suborbitale senza persone. Con investimenti del tutto privati, i due intrepidi amanti dello spazio vogliono arrivare, nel giro di pochi mesi, a lanciare un uomo con il loro razzo che potrà raggiungere i 100 km di quota, provare per circa 5 minuti l'assenza di gravità e tornare a terra. Nelle ultime settimane, Begson e Madsen hanno ripetutamente provato i motori di Hit 1X, questo è il nome del razzo, e tutto è andato per il meglio. Se riusciranno nell'impresa di portare un uomo nello spazio, la Danimarca, paese dei due intraprendenti, risulterà la quarta nazione a lanciare autonomamente uomini nello spazio, ma dovrà dire grazie a due privati.